Profili critici della pubblicità immobiliare è il titolo del convegno svoltosi nei giorni scorsi presso il Teatro delle Energie di Grotta Mare. L'iniziativa è stata così illustrata ai nostri microfoni da Albino Farina, presidente del Consiglio Notarile dei Distritti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo. La pubblicità immobiliare crea affidabilità, affidabilità sul traffico giuridico e l'affidabilità del traffico giuridico a sua volta riesce a realizzare il valore della fede pubblica che è uno di quelli che sostanziano il nostro patrimonio immateriale e quindi l'affidabilità dei registri immobiliari per noi passa attraverso l'affidabilità dei soggetti legittimati ad immettervi dati e atti che devono avere non solo una professionalità altamente qualificata, ma anche nel loro DNA terzietà ed imparzialità che poi sono sottoposte ad un controllo e una verifica estremamente rigorosa.